le rose appassite non rifioriscono ma dalla polvere del buon tempo antico può rinascere come in un sogno meraviglioso l'immagine il profumo e la nostalgia di un'epoca suggestiva vicina e pur lontana 1890 1890 la bicicletta è uno sport modernissimo per ragazzi spericolati il cricket è straordinariamente chic e molto favorevole ai flert e le automobili che non mettono paura a nessuno si fanno poco orgogliosamente rimorchiare dai cavalli 1890 in questa dolce atmosfera di tardo romanticismo nasce quasi per contrasto una vicenda fortemente drammatica la vena d'oro dal dramma indimenticabile di guglielmo zorghi corrado auguri caro lasciami quando ti arrabbi sei botta sembri proprio una statua egiziana col deco basta lasciami no prima mi dai un bacio ti do uno schiaffo un bacio qui subito no no che stupidaggine non so nemmeno come si fa carla lascia che ti bacio ma dopo mi lasci tranquilla sì mi hai baciata e adesso vai via ma carla vai via ti dico ma non abbiamo fatto nulla di male sei odioso non capisci mai vedi io sento che il futuro ci prepara qualcosa qualcosa solo per noi due qualcosa di bello di meraviglioso parla come un ragazzo ma lo fa sorridere cosa vuoi dire perché hai detto è andata con manfredi ho detto che è andata con manfredi perché 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 sono partiti insieme soli soli sì e credi che siano tutte come te ma ancora sei impazzito io con mia madre faccio quello che voglio e se la voglio far piangere la faccio piangere sei cattivo egoista prepotente sei io devo farlo e la felicità che abbiamo avuto la gioia i sogni anche quel bacio per te non conta non è stato quello che credi ma cosa è stato solo un attimo di turbamento un momento di follia di cui di cui mi pento follia non è stato nient'altro nient'altro no nient'altro i magici occhi di marta torren l'arte signorile di richard bezart la rivelazione di un nuovo giovane attore mario girotti la forza interpretativa di henry wilbert e la recitazione colorita e commovente di titina de filippo fanno della vena d'oro un film eccezionalmente interessante di raffinato buon gusto e di potente drammaticità grazie a tutti